Un litigio quando era già buio, fuori da una casetta dove vive un numero di immigrati imprecisato, a ridosso del fiume Veggenzone, tra Pernumi e Battaglia Terme, poi le urla ed un uomo che scappa lungo l'argine fino a raggiungere, ormai quasi distanguato, una casa vicina dove un giovane tunisino gli presta soccorso, ma è ormai troppo tardi. A Nuare il Guttai, a 27enne, tunisino muore poco dopo, scattano le ricerche di un 25enne gambiano che conviveva con la vittima in questa vecchia casa sul fiume, sospettato dell'omicidio. Dopo qualche ora il giovane viene rintracciato a Battaglia Terme, poco lontano, all'interno di una struttura di accoglienza per profughi dove qualche tempo prima era stato ospite. Era riuscito a entrare da una delle finestre e si era nascosto in una stanza. I carabinieri lo hanno arrestato con l'accusa di omicidio. Avrebbe accoltellato alla gola e il guttaia al termine di un litigio per futili motivi. I vicini li hanno sentiti litigare per uno zaino e sono ancora sconvolti dall'accaduto. Ieri è entrato a casa normale, lavato per mangiare normale. Dopo è uscito l'esistenza di rumore. Ha chiamato il mio amico, c'è qualcosa. Io ho uscito davanti alla porta e ho trovato quello ragazzo coltello di sangue. Era già morto? Prima no, prima voglio alzare così, ma lui non ce l'ha fatto. Dopo è arrivato il dottore, l'ambulanza, ha fatto la visita e ho trovato lui già morto. Non ti sei accorto di niente? Non urlavano? No, non ce l'ha fatto lui perché è una cosa grafica. Non ce l'ha fatto. Quindi una coltellata al collo? Ah, sì. C'è paura in quest'area, è un tempo paradiso di quiete nella campagna ed oggi trasformate in un luogo insicuro dove c'è un continuo via vai di persone straniere senza fissa dimora. Troppa gente che non sai neanche quanti ci sono. Cioè una volta ci sono 5 persone, una volta 15, non sai mai. Guarda, abbiamo preso 10 anni fa la casa qui appunto per stare tranquilli, viverci il nostro giardino. Non si può più fare.